Parliamo di questo campionato che parte per la Lions Teramo, la serie A2 maschile, dopo l'ottima stagione dell'anno passato. Si inizia sabato con Ferrara, una trasferta lunga ma soprattutto impegnativa. Sì, sarà una partita impegnativa sotto alcuni punti di vista, però noi andremo lì per fare bene, perché ci stiamo preparando soprattutto su questa partita per iniziare bene il camminato di quest'anno. Che tipo di stagione si prospetta, che campionato è? Questa stagione, diciamo che è per noi, si prospetterà molto impegnativa perché non abbiamo tutti i giocatori dell'anno scorso e soprattutto, come ho detto prima, vorremmo fare bene per arrivare sulla vetta della classifica. È stato costruito un gruppo giovane, con tanti ragazzi che hanno voglia di emergere, soprattutto vi state allenando da un po'. Che gruppo sta nascendo? Sta nascendo un bel gruppo perché siamo tutti uniti sotto questo punto di vista, ma con alcuni ragazzi già ci conoscevamo, invece con quelli nuovi li abbiamo accolti molto bene e quindi è un gruppo molto unito. Ovviamente poi la guida è quella giusta, ovviamente con Franco e soprattutto Settimio Massotti, che può far valere dalla panchina la sua esperienza. Sì, è una guida molto giusta, lui sotto questo punto di vista del gruppo ci sta anche indirizzando a essere molto uniti. Con lui abbiamo imparato anche nuovi aspetti sia sotto il punto di vista di gioco sia sotto il punto di vista personale. Pronti per l'esodio? Sì, prontissimi.